In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, Amen, O Santissima Trinità, Padre, Figlio e del Spirito Santo, Ti adoriamo e Ti ringraziamo per l'immensa carità che hai diffuso nel cuore di San Luigi Orione e di averci dato in Lui l'Apostolo della Carità, il Padre dei poveri, il Benefattore dell'umanità dolorante alla malattata, concedici di imitare l'amore ardente e generoso che San Luigi Orione ha portato a Te, alla cara Madonna, alla Chiesa, al Papa e a tutti gli affitti, per i Suoi meriti e la Sua intercessione, concedici la grazia che ti domandiamo per sperimentare la Tua Divina Providenza, Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era il principio, ora e sempre, nel Visio.